mi sono portata presso un sacco di cose allora intanto la minù saluta si saluta e se ne va per i fatti suoi la luce oggi bellissima allora ieri sciarpe cappello giaccone e si moriva dal freddo oggi è un golfino una maglietta dalle maniche lunghe in cotone non è proprio una tisciata è un body una sciarpa commessa dietro di me a crochet e si sta bene senza si sta bene si sta bene senza cappello si sta bene è bello caldo il sole bruciacchia ieri il vento portava via oggi c'è una brezza leggera 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 non so se la intuite dal movimento delle frasche alte di quegli olivi una bella fioritura guardate un po le pecore richiamano la minù oggi vediamo se riesco a chiacchierare di tutto intanto devo fare una rettifica allora il filato che avevo utilizzato per per queste sciarpe scialli sciarpe però chiamateli come mi pare non è un tubolare è una garza sino perché avevo anche i tubolari garza e quando mi torneranno per le mani ve lo farò vedere questa è proprio una garza è un filato che si può aprire vediamo se riesco mi sono portata all'appoggino per il cellulare stampa di scotti ora arriva anche uno starnuto 5 7 8 mannaggia sto bene non sono raffreddata sto in mezzo ai pollini e sto bene eccola qua perché garza e perché proprio ricorda la garza le garze avete presente le garze quelli che si comprano a rulli oppure imbustate a quadrotti io mi ricordo in clinica dalle suore alle magnoli e clinica cittadina la mi fecero l'appendicettomia e aiutavo le suore per preparare le garze per la bollitura eh sì mi facevano fare qualcosa visto che ci sono stata un po' a rompere le scatole mamma mia però mi sono anche divertita devo dire in clinica lì c'era da morire da ridere perché allo stesso piano dall'altra parte poco avanti era fatta strano all'interno della clinica le magnoli e c'erano dei militari in appoggio lì perché non so che problemi avessero all'ospedale militare della mia città e allora ce n'era uno giovane o sergentino giovane che l'abbiamo messo di mezzo che poi gli piaceva cantare e allora l'avevamo vestito con delle robe che avevamo per lì una gonna una maglia una roba così e lui se l'ha messo a cantare per i letti la la spagnola sa mar così ma guarda c'erano veramente sbilicati da ridere vedete che ho fatto amicizia poi in camera c'era una signora di 36 anni che a noi ci pareva mia nonna io avevo 16 anni e invece poverina no era giovane ma ovviamente a quell'età lì sembrano tutte grandi oltre un anno dalla proprietà e ci raccontava le cose quanto eravamo nella camera eravamo due tre quattro cinque eravamo tante in quella stanza ecco la minu è arrivata la minu che vuole le coccole e la mia mini è contenta era un po' che non scendevamo giù di qua con quel ventaccio allora ecco che vi faccio vedere le gardie la smetto di parlare delle cose mie ma poi perché scusate ecco vedete si apre è proprio una garza è una garza in cotone è una piccolissima percentuale di poliamide diciamo come questa guardate eccola qua adesso vi faccio vedere i miei filati estiviolo l'ho ritrovato mi piace che chiami il tonso un gomito l'ho mai toccato ecco lui è nuovo hanno la stessa percentuale di poliamide quindi è un 97% cotone e 3 poliamide non è la mia calligrafia io non scrivo così bene e che bello questo vedete com'è fatto allora è una catenella di costa e poi ha questi ciuffi di cotone belli lunghi sapete cosa ne viene fuori vabbè si dovrebbe intuire una bella spugna proprio la spugna avete presente le spugne quelle belle di una volta belle alte allora questo effetto cosa sta mangiando questa all'erba che paura che minu leca tutto allora ovviamente questo effetto si ottiene meravigliosamente in tessitura e infatti mi ci sono divertita come una matta al telaio con questo questo è uno dei colori che ho amato di più si può intuire il perché quindi con un urdito non fitto e con è realizzato con dei filati che si combinassero tra l'altro ho fatto degli orditi molto sfumati non avevo preso dei filati stonarizzati avevo preso delle tinte molto sottili e abbastanza distanziate avevo utilizzato un pettine da tre fili al centimetro mi pare sì quello e poi insomma avevo battuto abbastanza questa questa non è una ciniglia è una spugna quanto mi erano piaciute che cosa ci ho fatto allora ci avevo fatto degli scialli pareo ovviamente per l'estate o per l'inverno se qualcuno se non dava vacanza al mare io non ho mai amato fare queste cose qua a meno che ecco sì ho desiderato raggiungere la mia amica in argentina e siamo proprio come stagioni vero noi ci affacciamo alla primavera loro si affacciano all'autunno la mia amica non c'è più ma non c'è la sua famiglia e prima o poi andrò a salutare comunque anche lei e però ecco a me piace vivere le stagioni dove sto ecco vivere le stagioni magari in italia mi sposto ma non mi piace andare in partire da un'estate arrivare all'un'inverno partire da un'inverno da un'estate mi si scombina il mio orologio biologico proprio mentale psicologico insomma ci avevo fatto dei belli scialli estivi